Carli, quest'oggi ti ho portata a Disneyland È il mio sogno da quando sono piccola Ed è una mappa bellissima, infatti guarda quanto è grande Cioè, noi siamo qui e tutte queste cose sono attrazioni, giostre O comunque c'è qualcosa di interattivo, tipo qua le montagne russe, qua c'è il castello Cioè, tantissima roba È immensa questa mappa Sei pronta a fare un tour? Assolutamente sì Intanto guarda, è una mappa magica Le cose appaiono per magica Wow E adesso seguimi Ti porto a fare un tour Inoltre, se vedi, c'hai anche il libro degli autografi Perché se incontri dei personaggi famosi in giro, gli puoi chiedere l'autografo Secondo te incontriamo Paperino? Per forza incontriamo Paperino, cioè siamo a casa sua, dobbiamo incontrarlo Allora, qua sembrerebbe tipo la hall, proprio l'inizio, con tutti i negozietti Infatti vedi che c'è È un emporio Eh, c'è l'emporio Secondo te vendono del merch? Beh, per forza, è Disneyland, credo sia Eh sì, infatti Oddio! Coprami qualcosa, ti prego Io mi prendo quello di Stitch Mi prendi qualcosa? Eh, piglialo No, prendemelo tu Ah, ok, scusa Ok, te lo regalo Dove sei? Tieni Artiglio di tuoi storie È vero, è artiglio Artiglio Allora, guarda Ci sono anche le felpe Tieni, tu ti prendi questa e mi metto quella rossa Che carina, grazie E adesso entriamo, vieni Andiamo nella vera e propria Disneyland Ah, bellino, i negozi sono tutti collegati tra di loro Cioè, vedi, sono tutti aperti Guarda, vendono anche i pupazzini Ci sono anche i palloncini Voglio Stitch E prendo anche un palloncino Mickey Mouse No, ma, cioè, ma è incredibile Il livello, il dettaglio, guarda Guarda che cosa ho comprato E guarda Anche io l'ho preso Vieni, usciamo, usciamo Il castello È reale, allora Esiste veramente Sai cosa? Sono curioso di sapere se questo è Disneyland Paris O quella in America, in Florida Credo che sia quella di Orlando Ah sì? Quella della Florida? Sì, io sono stata in quella di Parigi Wow, c'è Minnie Autografo, autografo Vieni, vieni, vieni Pide il libro Ciao, fammi un autografo, per favore Sono un tuo grandissimo fan Ti seguo da vent'anni Letteralmente Oddio, che carina la firma Voglio vederla Sono super dettagliate Oh E lì c'è C'è Topolino Anche Topolino, dove, dove? È qua Io so farla alla voce di Topolino, sai? Falla Vabbè Lasciamo perdere Tagliamola questa parte, grazie Tagliamo Aspetta Mi dice di parlare con un membro del cast Per attivare i fuochi d'artificio Cosa? Ci sono i fuochi? Anche tu hai il timer sotto Vieni, 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 vieni Sì, 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 sì Mi sa che adesso parte l'evento L'evento? Che evento? Eh, non lo so, dice i fuochi Oddio! Come nella intro dei cartoni animati Wow Fa silenzio, vediamo Oh mio Dio Che spettacolo Bellissimo Quanto è romantico Tantissimo Tieni la mano Sei felice Tantissimo Wow Veramente Veramente figo Non me lo sarei mai aspettato E ancora non abbiamo visto nulla Perché non siamo entrati Nel vero e proprio parco giochi Mamma mia Comunque è super dettagliato Una cosa pazzesca Bello Andiamo Guarda i quadri Che raffigurano proprio le fiabe Qua c'è Cenerentola Raffigurano la profezia Questa che cos'è? Eh È una signora che vuole a un matrimonio Questo E quest'altra? No È tutto Cenerentola Davvero Si lavano i piedi qua Non si lava i piedi Gli sta dando la scarpetta di cristallo Si lavano i piedi Li puzzavano troppo E ovviamente non può che non esserci Cenerentola Però Cioè io la facciamo un po' più alta Sai Si effettivamente è più bassa di te Dove sono le sue scarpine? I suoi tappi? Ah forse perché scalza Ah Sta ancora cercando il principe azzurro Che le porti le scarpette di cristallo Ecco Oh che bella firma che ha Vediamo Sembra la mia Beh è vero figo Oh adesso siamo Dentro Disneyland E ci abbiamo No vabbè Anna Elsa E Chi è il signor Eh no non mi ricordo chi sia Neanche io me lo ricordo Vabbè Vediamo Scopriamolo Sì infatti fatti fare l'autografo Oppure non si offenderà di certo Chi è? Ah è Christoph Christoph Certo 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 Elsa Elsa ti prego Che brutta la grafia di Christoph Sì è bruttissima È ingordabile Cioè rispetto a quella di Elsa Guarda piena di magia Tutta carina Sì 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 Pagodas Guarda guarda c'è Peach Sei sicuro che sia Peach? Eh boh Sembra Peach di Super Mario Leggi la firma? No Ah Principessa Aurora Eh Salve è piacere Non l'ho mai vista Prima d'ora No non la conosco neanch'io Vieni Andiamo a fare qualche attrazione No vabbè Paperino Paperina E il loro negozietto Grazie Grazie Anch'io voglio l'autografo Paperino Le dobbiamo collezionare tutte eh Sono 28 Tu quante ne hai fatte? 10 Guarda Che dettagli E qua c'è Peter Pan Ciao Peter Fatti fare la firma La fa? Uh Vola Ma cosa? Bellissimo Bruttissima la sua No in realtà dai Non è brutta Fammi vedere Fammi vedere No dai ci sta Ci sta È carino Ma ragazzi guardate Che magia Ma tutto ciò Non ha senso Carli Sai dove ti sto portando? No Nelle miniere Dei sette nani Di bianca neve Ma tu ti ricordi i loro nomi? Eh Sì Certo C'era Pisolo Pisolo Brontolo No Tontolo Tontolo No Tontolo Non esiste Hai detto tu Tontolo Ho detto Brontolo Ah Brontolo sì Oh 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 È interattiva Che figata Hai lacciato le cinture? Eh no Eh allacciale Anche perché traballa sto coso Perché si muove così? Aiuto Guarda guarda Proprio come le vere montagne russe Prima sale lentamente E poi Giù a cannone Soffri di vertigini? No zero No Non ci credo Non ci credo Che carini Guarda Ragazzi siamo delle miniere Dei sette nani Wow Ehi Secondo te posso rubare Qualche diamante da qua? No 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 Carli Dai 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 Questo questo Guarda guarda Secondo me si arrabbiano Li puoi rubare veramente? Guarda Cliccaci sopra Oddio sono magici Sono magicissimi Ma ragazzi Il livello di dettaglio Di questa mappa No è assurdo Assurdo Guarda Lui credo sia quello intelligente Vedi che ha gli occhiali? Si sa del resto Tutti quelli che hanno gli occhiali Sono intelligenti Guarda che anche io porto gli occhiali No nella tua skin non li hai Oddio cos'è il suo gioco di colori Di fumi Non è che spunte Aerobrine adesso? Non credo Con tutta questa nebbia Guarda che spettacolo Tutto sbrilluccicoso Ma scusa Un secondo fa erano in caverna Ora sono in casa Si sono tippati Guarda che stanno ballando Che belli Aspetta che gli rompo la finestra Vediamo se si può Se si arrabbiano Oh scusate Scusate Posso rompere l'altra? C'è anche Biancaneve Vedi? Che è alta quanto i nani Quindi boh Un po' strana sta cosa Si effettivamente No però guarda c'è un nano bassissimo Eh è vero Oddio Carli Che c'è? C'è la strega Non accettare né caramelle né mele dagli sconosciuti Mi raccomando No no lei non dava caramelle Dava le mele proprio Mi ha guardato malissimo Si Devo dire Bella sta giostra Mi è piaciuta Bellissima Ok andiamo a cercare un'altra così Tipo un'altra montagna russa Ti seguo Allora consultiamo la mappa Quindi noi siamo qua Abbiamo visto già i sette nani Questa è una pista Ti va di fare una gara? È una pista? Si vai Andiamo Tanto ti straccio Non hai nemmeno la patente Non sai guidare Certo Certo Vai vai Scegli la tua macchina forza Io scelgo questa qua davanti Arancione Io scelgo questa qua davanti Bianca No tu devi stare dietro Non credo Rosso Giallo Verde Via Ciao Mangia la polvere Ciao Mangia la polvere Ma scusa ma non vale sta cosa Oh Addio Sì vabbè mi sono incidentato Nemmeno dopo due minuti Carli Lo vuoi un consiglio? No Come no? Premi shift C'hai il turbo se premi shift Ah si? Sì Prova a premerlo Eh no Non ci casco sai Oh Ci sei Hai sbandato Cercavo di guardarmi dietro E si recupera E si recupera Guardate che curva Una curva Strettissima Scusa Cosa? Cosa hai fatto? Niente Hai sbattuto contro la mia macchina No 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 Figurati Mica ti voglio sabotare Guarda che gli paghi tu i danni Guarda Oddio Basta Impossibile recuperarti Non accelera Sono quasi arrivata No No Ho aperto l'inventario Ho aperto l'inventario Per il mondo Te lo meriti No 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 Sì 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 No no Non vale Non vale All'ultimo Mamma mia ragazzi Ho vinto io Un pilota Nato Ma cosa dici? Che non riuscivi anche a superarmi Guarda si parcheggiano da sole le macchine Bello lo zainetto Carly Ti piace? L'ho rubato L'ho comprato Dov'è che siamo? Cos'è sto posto? Ciao Eccola Guarda da qua da qua No vabbè E' il fiume lento Carino Guarda romantico Io e te attaccati Con Dumbo Con Dumbo E Stitch E un palloncino Ma hai sei anni Che cos'è? Queste sono sti cosi? Un po' inquietanti Sembra il villaggio di Babbo Natale Comunque è veramente pazzesco tutto ciò su Minecraft Non c'ha senso Che carini Sì guarda E' tipo tema natalizio Sì guarda le rende lassù Ruba qualcosa Ruba ruba No 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 Carly che rubi? Dai clicca sui personaggini Rubane qualcuno Lo prendiamo a casa Ma guarda che carucci Tutti i personaggini che suonano la banda Sì questi sembrano tipo le guardie della regina Guarda con le trombette Mamma mia Io sono senza parole comunque Cioè non oso immaginare quante ore di lavoro ci siano dietro questa mappa No è pazzesco Beh Carly sei felice che ti ho portato a Disneyland Assolutamente sì E sono felice anche di tutti i gadget che abbiamo rubato No no li regalano Paghi il biglietto e te li regalano E' così che funziona Ah è così che funziona? Quindi non ho rubato nulla? No zero Ah ok No vabbè guarda quello sulla gondola Siamo a Venezia Siamo a Venezia Ma oddio Ah se tu con il cappello di Stitch avevi la testa piegata Ho visto gli occhi di Stitch giganti Questo sembra Super Mario dalla grafica Sì è vero Ah i tappeti volanti di Aladdin Dov'è Aladdin? Ah infatti dov'è lui? Non c'è Non l'abbiamo visto fino ad ora Dobbiamo collezionare più autografi Guarda c'è Dumbo Ma dove siamo finiti? Nella giungla Ma cos'è sto posto? Ma è matto È follia Tutto così strano Le scimmie Dove? Guarda che scendono dall'aliana Scimmia È pieno di cimmiette Che stanno facendo Ma che belli gli animali Rubo una cimmia Prendile la mano Tu vieni a casa con me adesso Ora cimmia mi appartiene Non me la fa prendere No Volevo un souvenir I pinguini Ma dove siamo finiti? Che è sto posto? Bella devo dire Una bella attrazione Una bella gita Beh Carly Ti è piaciuta questa giornata a Disneyland? Assolutamente sì È stato divertentivo Bene Adesso non ci resta che trovare gli autografi di tutti Quindi 3, 2, 1 Bye Ragazzi mi raccomando Lasciate un mi piace Dal vostro candle è tutto E noi ci vediamo domani con un prossimo video Ciao